Il vino marchegiano nella triade della Cuspide Sacra, ci può parlare di questo progetto? Un progetto cofinanziato dalla Regione Marche, all'interno del bando Marche dalla Vigna alla Tavola. La Cuspide Sacra perché si fa riferimento ai tre elementi base e cardine della dieta mediterranea, su cui si incentra un pochino tutto il discorso, che sono l'olio, il vino e i cereali, in cui il vino viene ad assumere un ruolo di punta. I vini proposti sono 40, tutti non li posso citare perché sono un numero consistente, messi a disposizione da 25 cantine, tutte del territorio marchegiano perché il focus è proprio sul vino marchegiano. Sono 10 ristoratori che hanno dato adesione a questo progetto, il cui capofila è il ristorante a storia di Guido Tassotti e alcune si sono già svolte. Le prossime in programma sono appunto questo fine settimana, il 22, il 23 e il 24 di ottobre. La prima al Gran Caffè Belli, dove saranno presenti anche due musicisti ormai di fama internazionale, Andrea Gasparrini e Fulvio Renzi, Gasparrini ai fiati e Renzi al violino. Poi il 23 ci sarà invece la serata a tema rinascimentale al ristorante La Corte di Fermo, sempre, con un gruppo di danze storiche, le Quampul Craes di Chiara Marangoni. Il 24 invece ci spostiamo nel dentro terra del Fermano, quindi siamo a Falerone, al ristorante delle Loggette, con un gruppo di ricostruzione storica, Arctoria, di Cupra Marittima, loro fanno proprio ricostruzione filologica. Poi il fine settimana successivo siamo di nuovo a Fermo, all'Osteria Orsolina, con una cena nutraceutica, quindi più sul discorso della dieta mediterranea, sarà presente Lando Siliquini, il presidente dell'associazione del laboratorio pigeno della dieta mediterranea, che è partner anche di questo progetto, e Roberto Lucanero, un organettista di fama internazionale. Poi le ultime due serate, a novembre, il 5 e l'8, il 5 al Chalet il Grillo, dove il tema appunto Dante e il vino, ecco in onore del settecentesimo anniversario della morte di Dante, con la presenza di Cesare Catà, che insomma Cesare Catà credo lo conoscano un po' tutti, anche lui ormai internazionale si può dire, mentre l'8 qui alla storia c'è la serata finale di chiusura, a cui ovviamente siete tutti invitati, ecco il tema l'abbiamo chiamata la festa proprio per far riferimento anche alla convivialità, altro punto cardine della dieta mediterranea, saranno presenti diverse personalità, ovviamente ci saranno le autorità della regione, le autorità locali e di tutti i comuni interessati da questo progetto, saranno presenti il professor Seghetti e Rotunno, che insomma faranno degli interventi sull'olio d'oliva e sul territorio. Ci sarà anche sempre alla serata finale una mostra d'arte allestita qui alla storia, a cura di Diego Del Giudice, un artista fermano che appunto durante tutte queste serate ha realizzato delle miniature in minuscola farfense, il primo corsivo del centro Italia che è nato a Santa Vittoria in Matenano, quindi una caratteristica, una peculiarità del territorio da mettere in evidenza e quindi sono queste miniature che lui ha realizzato durante tutte le serate e verranno allestite qui.